CINGHIALI Ave, siamo alla ricerca di galli arrivati clandestinamente dal continente. Ave, cognome, nome, impiego e luogo di residenza. Ma, certamente. Siamo mercanti britanni e siamo in viaggio d'affari. Io mi chiamo Belto Rax e lui è aste Rax. Buonasera. Ovvero, Lax. Buonasera. No, no, si dice buonasera. Buonasera. No, 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 aspetta, buonasera. Buonasera. No, 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 buonasera, questi sono romani. Buonasera. Brava. E il mio nipote, Teta Klax, è muto dalla nascita, il poveretto. Soldati, cercate dappertutto. Buon appetito, britanni. Grazie. Non capisco come facciate a mangiare quella roba, britanni. Nulla da segnalare, capo. Buon proseguimento. Vi prego di scusarmi. Ehi, scusate! Nel nome di Roma, arrendetemi! Galli! Bravo, eh? Avevamo detto di passare inosservati. Non è colpa mia. Il cinghiale al fegato di Merluzzo è nauseante. Non sono responsabili.